Grazie, grazie a tutti e buona giornata. In questi mesi, molte volte, nei discorsi che ho fatto in giro per l'Italia, sono partito dal valorizzare la parola umiltà. E ne sono davvero convinto. Vorrei che la parola umiltà fosse la chiave per aprire un tempo nuovo, una nuova fase di rapporti tra politica e cittadini. Umiltà, d'altronde, deriva da humus, terra, e significa prima di tutto il rapporto con la realtà, il rapporto con la vita reale delle persone. E l'umiltà vale soprattutto in un tempo di crisi, in un tempo in cui le persone vivono sulla propria pelle, spesso il disagio, la sofferenza. E umiltà significa anche chiudere e dire no ad una stagione di arroganza. E però oggi, fermo restanti le cose che ho provato a dirvi, io credo che dobbiamo avere il coraggio di partire dall'orgoglio, dall'orgoglio di quello che abbiamo fatto insieme in questi mesi. E voglio dirvi grazie, uno per uno, comune per comune.